buongiorno amici buongiorno amiche oggi abbiamo un nuovo adattatore android auto wireless carplay wireless si chiama volam pl6 presente su amazon italia io l'ho visto mi sono incuriosito e l'ho ordinato e ora l'ho provato per per voi allora vi dico subito che ha gli aggiornamenti ota anche se ormai praticamente quasi tutti questi dispositivi hanno gli aggiornamenti ota costa circa 40 50 euro il prezzo varia e appunto come vi dicevo è presente su amazon italia quello che lo caratterizza è che vedete lui in questo momento è inserito con la usb normale ma l'avrei potuto inserire attraverso la usb c senza bisogno di un adattatore nella mia automobile vedete io usb c e qui c'è una usb normale avrei potuto anche inserirlo qui attraverso questa usb c l'ho inserito qui attraverso la usb normale è piccolino a una plastica di buona fattura e può essere poi diciamo richiuso con un cappuccetto con un tappino per essere più gradevole alla vista vedete non è non è grande non è brutto non è male esteticamente non è non è male come funziona lui sostanzialmente la prima volta che lo collegate vi c'è una piccola schermata con delle istruzioni dove di vi dice di collegarlo al bluetooth una volta che lo collegate al bluetooth lui si riavvia il sistema vi dice ho rilevato un una periferica android auto e a quel punto voi vi connetterete ad android auto wireless senza utilizzare il cavo oppure se avete un iphone vi dirà che è stato collegato un carplay chiaramente se prima voi associate l'iphone a questo a questo dongle in quel caso lui vi dirà che è stato rilevato un dispositivo carplay e a quel punto vi collegherete a carplay via wireless quindi lui serve a collegarsi via wireless ad android auto a carplay sempre via wireless altre funzioni non non le svolge quindi niente play store niente youtube in movimento niente cose di questo tipo lui serve solo a togliere il cavo lo fa bene appunto come vi dicevo ci sono gli aggiornamenti c'ha questa furbata dei due porte una usb e una usb c quindi secondo me lo potete comprare tranquillamente su amazon e è un prodotto che ecco per chi è curioso per chi l'ha visto su amazon vi posso consiglia vi posso confermare che è fatto bene vediamo se funziona un assistente vocale previsioni meteo domani a cernobil a cernobil domani sarà prevalentemente soleggiato funziona massima di 33 gradi e una minima di 19 quindi amici l'avete visto su amazon siete curiosi compratelo pure perché funziona bene perché ha tutto e non costa neanche tanto una quarantena di euro va bene per carplay va bene per android va bene se avete una usb c va bene se avete una usb normale quindi non vedo motivi per non comprarlo salutiamo pasqui che ci ospita nel suo canale se avete domande fatele nei commenti ciao ciao